In Salento è stato provato un nuovo percorso di cura per l'obesità, la patologia che riguarda quasi il 13% dei pugliesi. Sentiamo. La Puglia è tra le prime quattro regioni italiane con il più alto tasso di obesità. Il 12,8% della popolazione infatti presenta un indice di massa corporea superiore al valore raccomandato dai medici. Inoltre la pandemia degli ultimi anni ha accentuato la tendenza di ingrassare, verificatasi per il 50% dei pugliesi, portando al 15% la percentuale dei bambini affetti da obesità. Città di Lecce, ospita l'ospedale di alta specializzazione, ha attivato un percorso di trattamento di questa malattia. La sinergia tra medici specializzati consente la presa in carico del paziente durante tutto il percorso, dalla diagnosi al percorso alimentare fino al trattamento chirurgico, proseguendo con regolari controlli di follow-up con tutto il team. Il percorso multidisciplinare inizia con le visite specialistiche dell'equip per valutare l'idoneità del paziente ad affrontare l'intervento. Vengono inoltre eseguite varie indagini strumentali, ad esempio esami del sangue, ecografia all'addome, visita cardiologica, oltre ad eventuali altri accertamenti sulla base del quadro di salute complessivo di partenza. Questo vuole essere un ulteriore passo verso una logica condivisa nel trattamento di una patologia così diffusa sul territorio.